Un brutto break in coda per Marfazul che perde svariate lunghezze rispetto al resto del gruppo dal quale emerge Jackal Prince, al secondo posto il banchiere per via interna su Top Experience in terza posizione Marfazul che recupera immediatamente avendo il largo Floral Heart Jackal Prince in vantaggio, giuba gialla al secondo posto il banchiere in giuba nera con la croce rosa al terzo posto Top Experience in giuba rosa che ha largo invece col caparancio Floral Heart a chiudere il gruppo Marfazul Corsa comunque piuttosto tattica, Jackal Prince continua a cadenzare a piacimento sul banchiere in seconda posizione di dentro viaggio invece Top Experience al cui fianco rimane sempre Floral Heart a chiudere Marfazul i cinque in quest'ordine virtualmente fin dalla sgabbiata il banchiere che prova a farsi sentire al fianco di Jackal Prince che comunque mantiene sempre la sua lunghezza di margine al terzo Top Experience con vicino Floral Heart a chiudere Marfazul in quest'ordine cinque sulla piegata finale con Jackal Prince nelle bestie di battistrada il banchiere che ora muove in maniera finalmente convinta al terzo Top Experience su Floral Heart e Marfazul che rimane in coda allunga in testa Jackal Prince, prende un paio di lunghezze nei confronti di il banchiere Floral Heart di dentro Top Experience, poi Marfazul che cerca gli spazi e ancora in vantaggio Jackal Prince sugli altri quattro che si industrano al suo seguimento il banchiere che ritorna sotto, Marfazul che scatta a largo all'ultimo farlo ne ha ancora Jackal Prince in vantaggio su Marfazul il banchiere che prova a ricucire lo strappo Marfazul il banchiere sullo stesso Jackal Prince nell'ultimo tratto, Marfazul il banchiere Marfazul che ha le battute migliori e batte il banchiere al terzo Jackal Prince, altri due a contatto Marfazul il banchiere cuore Marfazul il banchiere